I prodotti DOP e IGP entrano a pieno titolo nella ristorazione veloce. Che significato ha? Significa che stiamo cambiando i paradigmi. Le divisioni, i vecchi modi di giudicare stanno cambiando perché con i giovani sta cambiando il mondo in cui viviamo, anche il mondo della ristorazione, anche il modo di pensare il cibo. E noi vogliamo essere parte di questo cambiamento, anzi guidarlo. In che modo? Facendo alzare la qualità di tutto. Quindi condividiamo volentieri la qualità dei nostri prodotti perché poi tutti i prodotti che alla fine arrivano sulle tavole e sui tavolini, dei ristoranti, soprattutto dove ci sono i giovani, abbiano questo livello di qualità. Quindi l'aceto merita un capitolo a parte o si integra perfettamente in questo progetto di meraviglioso rilancio e anche riuscita perché credo di aver notato che i giovani lo stavano aspettando. Sì, l'aceto balsamico di Modena è fatto proprio per questo, cioè per contaminarsi con altri ingredienti all'interno di altre ricette. Nasce per questo e quindi entra veramente in maniera molto naturale in questo progetto ed è vero che i giovani l'hanno apprezzato molto. Perché? Perché aiuta a dare un grande equilibrio a tutti i piatti. Anche in questo caso queste caratteristiche particolari che sono essere il dolce, il piacevole, ma anche l'agro, il fresco, aiutano ad alleggerire piatti anche abbastanza più impegnativi e pesanti. E ai giovani piace creare, inventare. È un prodotto che può essere usato in tanti modi, certamente li attrae. Ecco, un prodotto che fino a dieci anni fa poteva sembrare un prodotto di nicchia, adesso diventa un prodotto di largo consumo. Siamo pronti? Eh, siamo pronti perché nel mondo i prodotti di qualità in generale erano prodotti di nicchia, oggi invece le persone, i giovani, ma non solo, non vogliono più prodotti che non abbiano un'identità qualitativa elevata e quindi stanno allargando. Magari comprano meno, ma comprano meglio. E quindi noi ci siamo fatti trovare pronti, noi come Aceto Balsamico, ma anche altri prodotti dopo IGP. e si sta passando da nicchie a fare il mercato. Una domanda invece più generale, che riguarda proprio questo tipo di avvicinamento dei giovani e non solo, alla ristorazione è veloce. Abbiamo sempre tutti meno tempo, il lavoro, la famiglia, ci precludono anche di condividere i pasti seduti ad un tavolo e quindi la ristorazione è veloce. Cioè lei personalmente che ne pensa? E poi anche professionalmente parlando, visto che è direttore di un corsozzo importante. È ovvio che con i vecchi criteri, i paradigmi, si è portati a criticare la ristorazione è veloce. Ma poi si guarda la realtà, anche la nostra, e si vede che soprattutto in una parte della giornata, quella attiva, siamo tutti iperveloci. Quindi dobbiamo cambiare il nostro sguardo e trasformare non tanto la velocità della ristorazione, ma la qualità della ristorazione veloce. Cioè si può fare qualcosa di bello, di significativo, di sensato anche con poco tempo. Allora anche un panino trangugiato in malo modo può diventare invece un prodotto equilibrato, un prodotto buono. E magari non abbiamo tanto tempo, ma il luogo in cui lo prendo può essere un luogo che mi aiuta a rilassarmi. Quindi dobbiamo entrare noi nel mondo della ristorazione veloce per aiutare questo mondo anche a crescere in maniera più equilibrata. McDonald's ha fatto una cosa intelligente, come stanno facendo altri. Cioè sta cambiando anche lui. Quindi sono dei cambiamenti che si incrociano e l'idea è quella di non mettersi fette di prosciutto sugli occhi, di guardare il mondo dove sta andando, di andare in quella direzione oppure di aiutare il mondo a orientarsi in direzioni migliori. Ciao!